Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video informativo Come avete letto dal titolo sto avendo problemi con Rockstar Games che mi ha strigerato dei video Per chi non lo sapesse Rockstar da un po' di tempo ha strigerato in generale la community americana di youtuber che caricava glitch Adesso poi è passata anche la community spagnola diciamo e quella italiana quindi piano piano li sta facendo tutti Non dico sia sbagliato per carità è giustissimo non mi andrò a lamentare di questo Vi dico solamente che su questo canale principale finché non avrò risolto il problema caricherò solamente video informativi come al solito Quindi come ho sempre fatto fino ad ora farò live normalmente e caricherò altri tipi di video insomma i soliti che avete visto esclusi glitch I glitch non li caricherò su questo canale ma li caricherò sul secondo canale che trovate in descrizione Vi invito ad andarvi a iscrivere al secondo canale mi raccomando li caricherò tutti quanti i glitch disponibili Adesso li sto ricaricando piano piano tutti mi raccomando mi fa piacere anche se entrate nel gruppo telegram ci stanno più di 25.000 persone Quindi qualcuno magari che ne so per duplicare per che ne so fare qualche recupero scorte per scambiarvi veicoli lo trovate Quindi entrate anche nel gruppo telegram e nel canale telegram Quindi mi raccomando ragazzi se vi fa piacere iscrivetevi al secondo canale per i migliori glitch e contenuti suggeriti online come al solito E vi ripeto questo primo canale rimarrà solamente per i video informativi Quindi spero che questo video sia stato chiaro Vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video